Buonasera, adesso invito l'ospite di stasera Eccoci Ciao Buonasera Manuel Ciao, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene Bene Adesso parliamo subito di te e di Uami Per aspettare il ghiaccio di dirci chi sei Ok, mi chiamo Manuel Vecchiato Sono da Treviso, sono il cofondatore di Uami Come hai accenato te prima Che è una piattaforma composta da un'applicazione mobile Dove vengono creati e poi forniti una serie di tour cicloturistici Da fare in completa autonomia Quindi tour self-guided Per essere tali, tutti i nostri percorsi sono principalmente tracciati dal nostro staff Quindi vengono personalmente metro per metro andati a visionare, tracciare e poi esporre Vengono inseriti in un sistema di filtraggio intelligente In modo da permettere a chiunque di andare subito a trovare il tour perfetto per lui Il percorso perfetto per lui in base alle sue decisenze, in base al suo livello di allenamento In base al suo gusto quotidiano Quindi ognuno può risalire a quello che più fa per lui E in più viene creato un contorno per ogni percorso Di allegati e contenuti multimediali Che permettono di avere una panoramica di tutto quello che si andrà ad affrontare E in più un vero e proprio accompagnamento virtuale per ogni piccola peculiarità Per ogni piccolo ostacolo che c'è lungo il percorso Quindi in soldoni, casomai poi ne approfitteremo per approfondire sicuramente UAMI è una piattaforma dove chiunque può trovare un percorso adatto a sé E da affrontare senza la necessità di chiamare una guida cicloturistica Adesso parliamo della tua carriera di ex ciclista Vorrei chiederti quanto ha infrontato la tua scelta di fondare UAMI Beh, carriera è un parolone Diciamo che noi, faccio una piccola premessa Siamo in tre ragazzi dietro a UAMI Tutti e tre con una forte passione per il ciclismo E due di noi, io e Mirko appunto uno dei tre fondatori Abbiamo corso fino alla categoria Under 23 Quindi questo sicuramente ha aiutato e sta aiutando molto il progetto Sia per l'esperienza che abbiamo maturato Quindi riusciamo magari subito, in maniera veloce A individuare dei tratti che sappiamo essere piacevoli Per chi poi va a pedalare Perché comunque in primis noi abbiamo un bel background a livello ciclistico Quindi sì, sicuramente la nostra carriera ha influito Carriera, se la vogliamo chiamare tale Ha influito positivamente in quello che è UAMI Ma alla base di tutto c'è la passione per il ciclismo Quindi quella è indiscutibile E quella è un po' la benzina che ci fa andare avanti Da dove è partito tutto? Cioè, l'idea è nata? Allora, l'idea è nata dalla volontà di riuscire a fornire qualcosa Uno strumento innovativo che permettesse agli utenti Di avere una sicurezza vera quando vanno a pedalare Mi spiego meglio Noi, fin da subito, il nostro mantra, il nostro motto è stato sempre quello Di riuscire a dare un servizio quanto più completo possibile Senza obbligare la gente ad affidarsi a qualcun altro Questo perché secondo noi Questo è quello che rispecchia a pieno un po' lo spirito della bicicletta Perché la bicicletta è uno degli sport più inclusivi che esista in questo mondo Perché ci sono mille modi di andare in bicicletta Ognuno può andare in bicicletta Però ognuno può andare in bicicletta a seconda delle proprie capacità A seconda del proprio livello di allenamento E noi, fin da subito, abbiamo voluto dare un qualcosa Che permettesse appunto a tutti di trovare quello che fa per loro In modo da godersi veramente la bicicletta Un'uscita in bicicletta Senza dover scendere a compromessi Senza dover uscire magari con un dubbio di un posto Dove non conosce Mi imbatterò in una statale Mi imbatterò in una strada privata Abbiamo voluto andare a eliminare tutte queste variabili Anche pensando, perché no, ai turisti Perché comunque noi lavoriamo molto anche con strutture ricettive comuni Andando a creare dei servizi ad hoc per loro Che vanno dalla tracciatura alla comunicazione Fino all'esposizione di cartellonistica E quindi sì, mettere a proprio alzo la gente Anche se non sa dove si trova È un po' quello che è il nostro spirito Avete già avuto con qualche comune italiano? Avete già qualche contatto? Sì, assolutamente Noi come società esistiamo da più di un anno ormai Quindi ormai siamo ben strutturati nel territorio Veneto Quindi a livello regionale Ci stiamo ampliando anche in modo extra-regionale Sia come tour pubblici Sia come contatti con comuni e strutture Attualmente collaboriamo con un buon numero di attività E questo comunque ci sta permettendo Anche in qualche modo di andare a creare una rete Una rete tra di loro Una rete tra comuni, tra strutture In modo che tutti traggano beneficio Da questo sistema di tracciatura ad hoc E che si crei anche un valore a livello economico per loro I percorsi che sono segnati sia in Veneto che in Puglia Che in Sardegna Cioè ci sono dei percorsi cicloturistici in ogni regione? Allora, questo è il nostro obiettivo Da qui a sei mesi Di riuscire ad avere un percorso per regione Attualmente però ne copriamo una buona parte Come ti dicevo prima Tutti i nostri percorsi sono tracciati personalmente da noi Tutti i contenuti che ci stanno dentro Sono creati da noi E quindi per ogni percorso c'è la necessità Che almeno un ragazzo del nostro team Si recchi in loco a creare tutto il lavoro Al momento arriviamo fino alle marche Come copertura dei percorsi Quindi copriamo il nord Italia E ci spostiamo poi verso le marche Nelle regioni ovviamente Che sono molto distanti alla nostra sede Non abbiamo un gran bacino di percorsi Però sì, stiamo lavorando molto Per riuscire ad ampliarsi Per riuscire a coprire Almeno con un percorso ogni regione d'Italia Per poi ovviamente andare ad ampliare La nostra offerta regione per regione La qualità tante volte va a discapito della quantità Questo lo sappiamo tutti Noi prediligiamo la qualità Per ogni nostro percorso Per ogni nostro lavoro Quindi ogni contenuto richiede tempo Richiede risorse per spostarsi Ce la stiamo mettendo tutta E sicuramente riusciremo a coprire Tutta l'Italia In modo, sì Da creare una vera e propria rete Di percorsi self-guided A cui tutti possono accedervi Vuoi stridireci qualcosa ancora di più su Wami? In tal modo specifico? Sì Come ti accennavo prima È stato un po' un riassunto Di quello che è il nostro lavoro Di quello che è la nostra attività Di quello che è il nostro modo Di andare in bicicletta A noi a tutti i percorsi Non l'ho accennato prima Perché stavamo parlando di bicicletta Allora non l'ho accennato Ci affianchiamo anche una grossa sezione Dedicata agli articoli Anch'essi sono redatti Scritti principalmente da noi E vanno un po' a completare Quella che è l'esperienza utente Quindi una persona ha anche la lettura serale Se vuole all'interno di Wami Prima di andare a letto Due consigli, una recensione Cerchiamo sempre di tenerli aggiornati Sul mondo del cicloturismo Quindi qualche novità Qualche comunque oggetto Che può essere comodo Poi per andare ad affrontare i nostri percorsi Qualche consiglio a livello nutrizionale A livello di preparazione In modo da spingere Anche magari qualcuno Che non crede di potercela fare A coprire un determinato chilometraggio Noi gli diamo anche quel consiglio in più Volendo Quindi a tutta la sezione Dei percorsi A cui accennavo prima Accessibile Sia in un format pubblico Per gli utenti Io li chiamo comuni Ma in realtà gli utenti Che si scaricano La nostra applicazione Affianchiamo anche una sezione di articoli Tutti questi contenuti Non te l'ho detto prima Ma sono completamente accessibili Scaricabili E consultabili Senza la necessità Di fare alcuna registrazione Quindi non c'è bisogno Di rilasciare una mail Non c'è bisogno Di rilasciare un dato personale Non c'è bisogno Di iscriversi O di accedere Ad un'area privata Per sbloccare Parte del contenuto Tutto al 100% È gratuito E non necessita Di alcuna registrazione E di alcun rilascio Di dato personale Quindi anche questo Va un po' A velocizzare Quello che è il processo Dal download Fino all'utilizzo Vero e proprio Di tutta l'applicazione Adesso Guardiamo Una cosa che fa il pubblico A media bossi Finale di guerra Con i tratti da enduro Ho avuto il piacere Di vedere L'evento mondiale di enduro Ed veramente Ha un fatto lavoro eccezionale Quindi praticamente Ci riporta che A finale di guerra Questi trail da enduro Ovviamente potrebbero essere Anche disegnati Da guarni Cioè Tutti questi Questi percorsi Sicuramente I trail da enduro Vanno un po' Un po' fuori Da quella che è Il nostro Direi che se cautavina Con Con Manuel Direi Adesso Invitiamo Di avumarle Così Ovviamente È cautelina Quindi Dobbiamo Invitare Siamo qua Ti sei Ti sei frizzato Federico Ti sei frizzato tu Mi dispiace Ci sei diventato tutto nero E dopo sei sparito Però vabbè Ce l'abbiamo fatta Comunque Riprendo da dov'ero Parlavamo Dei trail da enduro Di finale ligure Sicuramente Sono Sono veramente Ottimali Avrò anche Occasione di andare A testarli Però sì Come ti accennavo I nostri percorsi Cercano di andare A coprire una clientela Anche molto più tranquilla Quindi Famiglie Persone Neofiti Della bicicletta Che hanno bisogno Di un consiglio in più Per poter iniziare A pedalare Quindi sì Però sono Veramente ottimi Lo ringrazio Per il consiglio E casomai Se verrò a provarli Li farò Li farò un messaggio E andremo insieme Ecco Vuoi dirci qualcosa in più Su Wami Così Cosa deve fare L'utente Che vede Che vede Che vede L'app Superstore Cosa deve fare Beh Innanzitutto Deve scaricarsela Perché Sì È mandatorio Quello Dai no Parte gli scherzi Come ti dicevo La non necessità Di lasciare Alcun dato personale Riduce al minimo Le azioni da fare Per poter scaricare E poi Usufruire Di un percorso Quindi in realtà Già L'azione Del download Ha già coperto Più di metà Di quello che deve fare Una persona Per utilizzare Wami Quindi Gli basterà Scaricarsela Accedere Alla grande sezione Di raccolta Di tutti i percorsi Sempre che non si trovi In una struttura O in un comune A noi convenzionato Perché in quel caso Basterà scansionare Un codice QR Che noi rilasciamo Attraverso dei flyer O attraverso dei cartelloni All'interno del comune E a quel punto Avrà accesso Direttamente Ad un'area Esclusiva Per Per il comune O per la struttura Però a quel punto All'interno Troverà esclusivamente I percorsi Che interesseranno La struttura O l'area comunale Riprendendo Gli basterà Selezionare Il percorso Che più Che più è adatto Le sue caratteristiche Che più Che più gli piace E si troverà davanti Inizialmente Un flash Di quelli che sono I dati principali Quindi durata Stimata In base a quello Che crediamo sia corretto Dislivello E chilometraggio Una descrizione scritta In più lingue Quindi italiano Ed inglese Dove si va Dove si va A descrivere Un attimo Un'introduzione In modo da preparare L'utente Una descrizione Del percorso Anche abbastanza Dettagliata In modo che Già dalla prima lettura Si sappia La presenza Di qualche ostacolo Che comprende Dei consigli Tecnici Piuttosto che Dei consigli Sei sparito Di nuovo Ecco Ti Non ci sono Emanuele Direi che si è caduto Ancora Quindi Adesso Non invitiamo C'è che stasera Con nessuna ballerina Quindi Adesso Vediamo Cosa C'è di che Lo invitiamo E proseguiamo Il discorso Non Non è mai capitato A parte Giulia Che Era Caduta Perchè una volta Che succedesse Quindi Adesso vediamo Se torna Eccoci Butto via Il router Quando ho finito Questa diretta Comunque Adesso Ho staccato Il wifi Sono col 4G Vediamo Se può Andare meglio Comunque Dicevo Una galleria Fotografica Completa Anche di alcuni Video Perchè Comunque Noi Diamo anche La possibilità Di poter Visionare Un video Con Anche Delle riprese Da drone Poi per chi ha piacere Di avere una panoramica Ancora più completa Su quelle che sono Le bellezze Che vanno ad attraversare I vari I vari nostri percorsi E in più Tutta la serie di allegati Che ti accennavo prima Che in realtà Sono il fulcro Di un tour Self-guided Quindi si passa Dal file GPX Vero e proprio Tracciato da noi E scaricabile Senza la necessità Di rilasciare una mail Ad un'altimetria dinamica Che magari Per i percorsi Quelli un po' più impegnativi Fa piacere Perché uno Al chilometro X Può già vedere In anteprima Che pendenze Dovrà affrontare Piuttosto che Quanto lunga È lunga la salita Da andare a pedalare Una mappa interattiva Che è molto Molto comoda Sui percorsi Quelli adatti Alle famiglie Perché permette Di avere Innanzitutto Una visione generale Del percorso All'interno della mappa E in più La possibilità Di avere accesso A tutti i punti Di interesse Strutture Bar Fontane Sparse lungo Il percorso Attraverso la disposizione Di alcuni markers Che noi Disponiamo Nei punti prestabiliti E per ogni markers La possibilità Di aprirlo Avere accesso Ad un pop up Dove Si va Ad avere A consultare Una descrizione Delle immagini Fino A dei link Che ti rimandano A una prenotazione Diretta Di una struttura O di una tavolata A ristorante Se si è piacere Di fermarsi A mezzogiorno A mangiare qualcosa Apro una parentesi Questa mappa Torna molto utile Anche per i bikepacking Perché noi Comunque forniamo Anche dei piccoli Pacchetti di viaggio Di più giorni Che Qualsiasi persona Può andare ad affrontare Come meglio crede In quanti giorni crede E tramite Questi markers È possibile Già Preorganizzarsi Tutte le tappe Del giro In modo che Un giro di 700 km Se uno ha tantissima gamba Può farlo in due giorni Fermarsi una notte sola Ok Allora programma Già la tappa Si trova Che strutture Sono accessibili Per l'alloggio Nell'area prestabilita E potrà Prenontare solo una Se invece uno vuole Prendersela più comoda Viaggiare due settimane Dieci giorni Ha tutto quello Che gli serve Per poter spezzare La navigazione In quanti giorni preferisce Andando appunto A già Preorganizzare Tutto il viaggio Questo agevola molto Anche comunque Mentalmente Una persona Perché se uno parte Già ordinato Con Con le tappe Prestabilite E' anche un input Poi per andare A raggiungere La destinazione Quando Quando si parte Chiudo la parentesi Della mappa Abbiamo un ultimo legato Che sono le tracce audio Che sono anch'esse Disponibili in multilingua Che vanno Un attimo A completare A completare La descrizione Dei punti di interesse Perché se c'è un castello O comunque Un'attrazione Non è principale Sul percorso C'è anche la possibilità Di ascoltare Quello Quello che ha Da offrire Quel punto E questo è un po' Il pacchetto Che completa Tutti i nostri Percorsi Sia A livello pubblico Quindi quelli scaricabili Da chiunque Sia poi A livello Personalizzato E privato Per le strutture Di comuni Perché comunque La struttura Del percorso Viene riportata Ma il format Di accesso È diverso Adesso passiamo Le domande Perché ce n'è più di una Ok Quindi ci sono Talle domande Intanto Cri 1982 Chiede Ciao Io abito In provincia di Bergamo E ci sono molti Bellissimi percorsi Ne sapete qualcosa? Beh assolutamente Beh Bergamo È una zona fantastica Per andare in bicicletta Cioè ci sono possibilità Infinite Di godersi la bici In qualsiasi forma Strada gravel Mountain bike Bergamo È una zona Veramente ricchissima E stiamo programmando Di arrivare anche là Abbiamo già Diversi percorsi Vicini Non proprio a Bergamo Però sì Il nostro obiettivo Come ti dicevo prima È quello di coprire Tutte le zone d'Italia E abbiamo già studiato Qualcosa A Bergamo Quindi Cri Scarica l'applicazione E vedrai che a breve Ci sarà qualche sorpresa A Medea Bossi Chiede Se avete qualcosa A Varese Intorno di Varese A Varese no Non ancora Noi abbiamo Tantissimi percorsi Nel Veneto Quindi Treviso Venezia Padova Vicenza E Verona Abbiamo veramente Una vasta scelta Poi abbiamo Un paio di percorsi In Emilia Altrettanti in Toscana Uno nelle Marche Alcuni in Trentino E diversi Anche in Lombardia Ne abbiamo Più di cinque In Lombardia Che vanno Sia A interessare La zona cremonese Quindi da Cremone Ed intorni E tutta la pianura Tutta la pianura padana Fino anche a Milano Abbiamo tutto L'acciclabile Dei navigli Con anche Un'inserzione gravel Al suo interno Un'altra domanda Da Marco Pantani Fanpage Chiedeva Se Guami Funciona anche su Navigatore Garmin Che è il suo altro Navigatore Ma non ho visto più Il messaggio Sì assolutamente Noi Forniamo il file Il file GPX Il file GPX È fruibile Da Qualsiasi ciclo computer Indipendentemente Dal brand A cui appartiene Quindi è leggibile Sia da Da Wahoo Da Brighton Da Garmin Come da applicazioni Terze Per smartphone Cosa che noi sconsigliamo Perché comunque Un navigatore GPS Che sia ciclo computer È comunque Un prodotto Dedicato A fare A fare quello Un prodotto cartografico Esclusivamente O quasi esclusivamente Dedicato A leggere Quella trassa Quindi meglio Di quello Non la fa Non la fa nulla Noi comunque Nella mappa interattiva Che ti accennavo prima Dove si può vedere L'anteprima I vari markers Diamo la possibilità Di essere seguiti Da un indicatore Di posizione Quindi questo Se qualcuno Non possiede Un dispositivo Per poter leggere O comunque Non ha Non ha spazio Nel telefono Per scaricarsi In una applicazione Sai che L'indicatore Ti segue Comunque nella traccia Ti indica La via E ti aiuta A seguire La navigazione Comunque sì Noi personalmente Consigliamo Sempre L'utilizzo Di un dispositivo Dispositivi Che volendo Abbiamo anche A noleggio Perché abbiamo Anche una piccola Parte di Noleggio Che comprende Noleggio bici E noleggio garmin Quindi nel caso Qualcuno Avesse necessità Di utilizzarlo Perché non ce l'ha Basta un colpo Di telefono E noi Le lo forniamo Adesso Non resta Che resensire Tutta Italia Per stare fuori Uno o due anni E poi resensire Tutta Italia Bisogna Bisogna Tornerò In forma Come quando ero Corridore Assunto di mappare Percorsi in tutta Italia Dovrò Dovrò farne Di chilometri Per fortuna Siamo in tre E loro due Vanno anche più forte Di me Quindi stanno anche prima A tracciare I vari percorsi Adesso ti vuoi chiedere Quando facevi ciclista In che team Corrivi Così facciamo un attimo Di Beh io ho iniziato Con una piccola squadra Qua Vicino a casa mia Io sono da Treviso Con il gruppo sportivo Mosole Ho iniziato Da G5 Quindi Da giovanissimo Poi ho sempre corso Per squadre locali Fino a A dilettante Quindi ho corso Con il team Spercenigo Che è sempre una squadra Trevisana Che mi ha accompagnato Da allievo E da juniores Poi sono passato Alla work service Brenta Squadra padovana Per gli anni Da under 23 E ho terminato La carriera Carriera Se si può chiamare tale Là da quarto anno Under Comunque sì Sono state È stata una bellissima esperienza Sicuramente mi ha insegnato Molto Sia Per la bicicletta Sia Per insomma Come Come agire In certe situazioni Come tenere duro I momenti difficili Che sicuramente Quando vai ad aprire Un'attività Ci sono Quindi sì La bicicletta Insegna molto Sia Appunto Sul mezzo Sui percorsi E quant'altro Ma anche Su tutto Quello Che è Il contorno Poi Quindi È un po' Una scuola Di vita E forse di Lombra Davvero I percorsi Che avete Hanno una durata Massima Di chilometraggio Sono compresi Fra un po' Di chilometri Beh guarda Abbiamo fatto Alcune mattate Ci sono un po' Di percorsi Veramente lunghi Come ad esempio Ce ne sono due In particolare Uno Che da Conegliano Terra del Prosecco Qua vicino a Treviso Arriva fino a Bormio Passando per lo Stelvio Per poi tornare indietro Ripassando da Trento E sono quasi 360 chilometri Con più di 6.000 metri Di dislivello Quello Io lo consiglio Di fare in quanti Più giorni possibili Io e Mirko Il mio socio L'abbiamo fatto in due Ma lo sconsiglio Chiunque Quindi usate bene I markers Divideteli In una settimana Perché Sennò State male L'altro invece L'abbiamo fatto Quest'estate L'abbiamo preso Un po' Come viaggio Lavoro Ne abbiamo approfittato Abbiamo fatto un bikepacking Di una settimana Siamo partiti sempre da Treviso Siamo andati a Bologna Da Bologna Siamo andati a Firenze Via la Via degli Dei Poi siamo arrivati Ad Arezzo Per poi risalire a Ravenna E tornare a Treviso Quindi abbiamo fatto un po' Un piccolo anello Un piccolo anello Non dico dell'Italia Ma almeno del centro nord Italia E sì È stata una bella faticata Però ci siamo divertiti E questo percorso è consultabile all'interno dell'applicazione Potete vedere delle immagini Potete scaricare la traccia Volendo E anche consultare tutti i remarkers Delle soste che abbiamo fatto Che noi abbiamo segnato Ed è veramente Sì È stata una bella esperienza E sono 750 chilometri però 750 Io li farei in 20 giorni almeno Beh guarda Gli avrei fatti volentieri anch'io in 20 giorni Però Avevamo solo una settimana Quindi abbiamo dovuto incastrarli dentro Però sì Sono zone veramente belle L'Italia è un paese stupendo E poterlo attraversare in bicicletta È anche una fortuna a volte Sono stato buono Rifare in 10 anni 750 chilometri Beh dai Prossima volta andiamo insieme Quindi andiamo piano tutti e due Che fa bene Si sta prendendo piano Tranquillo che ci sono Guarda È sempre andare forte il problema Andar piano Non è mai un problema Adesso Amedeo Bossi ci chiede Ci dice Nel breve a Varese Do una rago maggiore Aumentiamo i percorsi ciclabili In più stanno crescendo i percorsi Mantambari Passa dai E niente L'Avari Varese Beh ma Se passa Amedeo Mi dai qualche consiglio Mi accompagni A fare qualche percorso Bisogna Sono sicuro che Ti aiuterà Basta Basta che non mi tiri il collo Però No guarda Sono sicuro che comunque tu Essendo un mexicrista Sei comunque più esperto Speriamo Quindi cosa possiamo dire Se per il caso avete un dubbio Scaricate Uami Ovviamente usatelo Esatto Per qualsiasi cosa C'è la sezione dei contatti Potete contattarci liberamente Se avete consigli Su luoghi I posti Come stanno arrivando Sono assolutamente Ben accetti Perché sì Noi stiamo girando Ci stiamo ampliando Stiamo attraversando Molte zone E tante volte Sai Essere anche accompagnati Da Da un local Comunque ricevere Qualche consiglio in più Oltre che Il piacere Di conoscere gente nuova Di fare amicizia Con persone Che condividano La tua stessa passione È anche d'aiuto Poi Per la piattaforma stessa Insomma Aiuta ad arricchire Il tutto No Avete mai pensato Di avere il collaboratore In giro per l'Italia Che Allora Ci è balenata Ci è balenata L'idea Più di una volta Il punto è che Noi Vogliamo veramente Tenere uno standard Dei percorsi Che Passino tutti Da Da noi Quindi Vogliamo Avere la certezza Del 100% Di quello Che offriamo Perché È un po' Il tallone d'Achille Delle tante piattaforme Di condivisione Percorsi Che ci sono Su internet Trovi Tantissime Alternative Una Raccolta Infinita Di percorsi Ma tutti Con Quale cosa Che non va O la deviazione O comunque La partenza Da casa Di tizio Perché Sì La gente magari Li fa Poi li carica E non lo fa Con uno scopo Preciso Che è quello Di farlo Utilizzare A tante altre persone Quindi Sì Ci abbiamo passato Qualche volta Però Finché Riusciamo Finché Abbiamo possibilità Di spostarci Di andare Noi stessi Anche a costo Di sacrificare Magari giornate Per andare su posti Solo Per conoscerli Per poi tracciare Preferiamo Continuare Su questa linea Qua In modo da Continuare A fornire Uno standard Che permetta Alle persone Di avere una sicurezza Quando utilizziamo Ami sicurezza Che tante volte Su altre piattaforme È difficile Da trovare Non perché Siano meno buone Ma perché Semplicemente Magari Vengono condivisi Con un obiettivo Diverso Dal nostro Quali sono Gli obiettivi Delle tre piattaforme Visto che Hai lanciato Il sasso Beh sicuramente È la forte copertura Di un grande numero Di percorsi Per regione Quindi Magari Altre piattaforme Hanno l'obiettivo Di andare A coprire Cento Percorsi Non lo so In Trentino E quindi Per farlo Devono affidarsi Gioco forza A ricevere Dei percorsi Da chi li va A tracciare Senza un controllo Verificato E veritiero Di quella che è La traccia Invece noi preferiamo Magari al posto Di condividere Nel cento Ne condividiamo dieci Ma di quei dieci Chi va a farli Oltre che ad avere Un contenuto completo Sotto mano Prima di andare Ad affrontarlo Può mettere La mano sul fuoco Che quella traccia Non avrà errori Che seguendo quel GPX Non ti imbatterai In una strada trafficata In una proprietà privata Se è da mountain bike O se selezioni Una categoria Sai che quel percorso È per forza Incluso in quella categoria Perché Tanti altri Magari cercano Di includere Percorsi Magari Dediti al cicloturismo Con dei tratti A noi non ci piace Una divisione Una divisione per tipologia Di bici consigliate Quindi dalla bici Da turismo Alla mountain bike Alla grave Quella da corsa Quella elettrica Poi una difficoltà Generale Che è subito Intuibile Già dal nome Dalle difficoltà Perché dividiamo subito Per famiglie Per persone Di una certa età Quindi magari Non allenate E quant'altro Per persone Un po' più allenate Ma che comunque Non sono così pronte Ad affrontare Delle difficoltà Importanti Fino ad arrivare I percorsi Che sono inclusi In gente Molto preparata Che non ha problemi In fronte a qualsiasi cosa Questo Assieme alla zona geografica E insieme ad una barra Del chilometraggio Ti va proprio a Scremare Il percorso E a tirarti E a esporti Solo I tracciati Che cerchi E questo È già Un primo Un primo passo Per avere già Una sicurezza Poi comunque Accedendo ai contenuti È veramente Una parolamica Completa Di quello Che hai di fronte Sia scritta Fotografica Video Sia sotto forma Di allegato Quindi tu Hai già Tutto Quello che ti serve Per capire A cosa andrai incontro E questo È importante Soprattutto O per chi Non è preparato O per chi Non conosce la zona Quindi sì È molto facile Riuscire A trovare Il percorso Che fa per te Adesso Guardiamo Se c'è arrivata Qualche domanda Non ci sono domande Quindi Ovviamente Adesso Siamo arrivati A monitor di saluti Però prima Vi consigliamo Di scaricare Tutti i guami A chi ci ascolta A chi ci guarda Ai nostri giocatori A chiunque Scaricate i guami Usatela E se non avete dubbi C'è Manuel Che risponde Di tutto Anche qualche consiglio Non solo dubbi Dai Se ci sono consigli Se ci sono dei percorsi Consigliati Questa Esatto Molto ben accetti Ok Adesso Adesso Speriamo Che tutti questi percorsi Che hanno consigliato I ragazzi in diretta Vengono Possono essere messi Quindi In la zona di Valese In la zona di Bergamo Eccetera Assolutamente Io mi sono tirato giù I nomi Di quelli Che mi hanno consigliato Qualche percorso Quindi Vi scrivo adesso 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 vi scrive Adesso Un saluto Vi auguriamo Buona serata Da Federico Sardai Da Manuel Vecchiato Grazie mille Federico Ancora per l'invito Non ci sono problemi Ringrazio a te Per Per essere il nostro ospite Figurati Un piacere Ovviamente Stasera Non c'è stato Giulia La nostra Giulia Fontanelli Che Ha avuto Un contratempo E non poteva essere Tra noi E quindi La conduzione È stata solo mia Quindi Negli spiegamenti Per tutti i fan Di Giulia Ma Stasera ci sono io Beh dai Non siamo Non siamo così brutti Da vedere Dai Federico Beh Diciamo che Diciamo che I ascolti Con Giulia Salgo Diciamo Eh va bene Dai Va bene Con questa Ci salutiamo tutti Buona serata Buona serata Ciao Ciao